Ben trovati, ben trovati ad un nuovo video tutorial firmato fabioambrosi.it questo tutorial è un tutorial bonus del corso introduttivo ad After Effects che si è appena concluso durante il corso abbiamo visto come muovere i primi passi in After Effects come creare semplici animazioni, lavorare con le espressioni, giocare con le maschere, con il testo, con i livelli, come fare un rendering eccetera eccetera abbiamo visto concetti semplici ma che sono alla base di After Effects prima di iniziare la parte avanzata del corso su After Effects in cui parleremo della trasparenza e di effetti speciali un pochettino più complessi ho pensato di fare una lezione bonus, un video bonus in cui metteremo in pratica quanto appreso fino ad ora con un progetto pratico ecco questo è quello che faremo nei prossimi 2-3 video tutorial se non avete mai adoperato After Effects in vita vostra vi consiglio di recuperare il corso dal principio in maniera tale poi da poter seguire più agilmente quello che faremo in questo tutorial se siete già bravi e pratici di After Effects questo tutorial potrebbe comunque interessarvi perché vedremo come recuperare i dati da un file di testo esterno e utilizzare questi dati per creare un'infografica dinamica dentro After Effects pronta per essere esportata, pubblicata e condivisa in altre parole stiamo ipotizzando di lavorare in un giornale o in una televisione che sta seguendo le elezioni presidenziali statunitensi ipotizziamo di essere alle 5 del mattino e i dati sono in continua evoluzione c'è fermento, arriva il primo dato che dava Trump vincente con il 52% di voti come in questo caso è Biden perdente per il 48% dei voti con il 48% dei voti a un certo punto arriva un giornalista urlando novità, novità, novità è tutto cambiato Biden è passato in testa con il 55% di voti e Trump deve accontentarsi per ora di un 45% di voti bene, voi fate aggiornare questo file di testo che avete dato alla vostra redazione o alle persone con cui state lavorando il file viene aggiornato voi siete pronti per rimandare in play l'animazione da capo e vedere come il dato venga subito aggiornato in questo caso quindi Biden dato vincente con il 55% dei voti e Trump perdente con il 45% dei voti tutto questo senza dover mettere mano al progetto il progetto lo preparate prima di iniziare la notte elettorale che stiamo in questo caso ipotizzando ora io sto semplificando molto quello che stiamo vedendo qui ovviamente può essere arricchito non so se si stanno eseguendo le lezioni italiane si può fare una tabella o un grafico che riproduca i risultati regione per regione quindi questo file di testo potrebbe essere molto più complesso di così però immaginate la potenza di poter dare ad altre persone che non sono grafici e che non lavorano con la grafica la possibilità di inserire i dati e di poter esportare tutto con un click in maniera tale che appena arriva la notizia appena arriva l'informazione appena occorre aggiornare l'infografica sia possibile dinamicamente generare un nuovo grafico pronto per la pubblicazione in pochissimo tempo in determinati contesti in determinate situazioni la velocità è importantissima e quello che voi dovete fare è essere precisi come sempre ma veloci sono due cose importantissime quando si lavora a determinati progetti o con determinate realtà io sto facendo l'esempio della redazione di un giornale perché sempre più spesso le redazioni dei siti web dai siti più grandi come Repubblica e Corriere ma anche i siti dei giornali locali tutti hanno bisogno di comunicare con le immagini e ci sono delle situazioni in cui la velocità è la cosa più importante spesso purtroppo la velocità va a sacrificare poi la qualità questo non dovrebbe succedere ed è compito vostro che lavorate come grafici come montatori come operatori multimediali cercare di minimizzare i danni imposti dalla velocità ecco questo è quello che faremo quest'oggi quindi creeremo due grafici il primo due semplici torte con la faccia dei candidati alla presidenza americana al centro e una torta che si compone a seconda della percentuale di voto con cui questi singoli soggetti sono stati votati dai loro elettori il secondo grafico invece è simile a questo ma invece di utilizzare delle torte utilizzeremo delle semplici barre eccolo qua quindi niente facce dei candidati in primo piano ma delle barre che crescono a seconda del dato che voi date come input quindi facciamo un esempio estremo trump 15 per cento biden 85 per cento salvo il file torno in after effect e vedrete che il dato anche in questo caso è stato aggiornato in questo caso non ho creato l'highlight del vincitore no vedrete poi che potete farlo voi magari come esercizio conclusivo quindi questa è l'introduzione questo è quello che faremo nel prossimo video tutorial cominceremo da zero quindi progetto pulito tutto da capo e vedremo come utilizzare le espressioni per fare tutto questo perché chiaramente questi dati devono essere portati dentro da after effect e il modo per farlo è quello di utilizzare le espressioni ve le faccio vedere al volo vediamo di farvi vedere un'espressione per esempio vediamo eccola qua questa è l'espressione che noi utilizzeremo per far crescere la nostra la nostra torta ok non vi spaventate di quello che leggete lo spiegheremo nel corso del video tutorial vedrete che in realtà se siete già pratici di programmazione e avete lavorato con linguaggi come javascript più o meno potete già capire quello che viene fatto se non avete idea non vi preoccupate recuperate il corso introduttivo ad after effect in cui abbiamo parlato un po delle espressioni ma se non avete voglia non vi preoccupate tra poco nella seconda parte di questo tutorial vedremo tutto quindi vedremo come agganciare il nostro file estrapolare il valore che noi vogliamo trattare recuperare il dato trattare il dato e poi stamparlo nella proprietà in cui stiamo lavorando ok quindi questo è quello che faremo nel prossimo video tutorial andremo avanti per il momento www.fabioambrosi.it anche lì c'è il corso anche lì ci sono gli articoli introduttivi ad after effect iscrivetevi a questo canale youtube mettete un like ai video se vi piacciono ovviamente condivideteli con i vostri amici e venite a trovarmi su facebook la pagina da cliccare come sempre è fabio ambrosi venite lì mettete un like e teniamoci in contatto al prossimo video tutorial ciao